Amiche e amici di Volonbrite, siamo qua al Sporting Club del Monviso e siamo in compagnia del primo atleta che è uscito dalla gara del nostro torneo di tennis. Gli chiediamo una breve presentazione e come si è avvicinato a questo sport e un po' il suo curriculum ecco. Allora, piacere, sono Mattia Minucchi, gioco a tennis in carrozzina da tre anni circa e ho iniziato casualmente perché un signore, mentre il papà giocava a tennis a Viterbo, ha visto un signore in carrozzina e ha detto, ah ma esiste? E allora abbiamo provato e è andata bene. Curriculum, poca roba, però ci metto tanta passione, quindi io punto sempre a divertirmi più che alla vittoria in sé per sé e oggi mi sono divertito anche se il risultato non è stato a mio favore. Ma tanto si potrà sempre migliorare, giusto? Sì, sì. Non è che... quindi vogliamo aggiungere qualcos'altro per il torneo, un auguri a qualcuno? Il torneo ringrazio Margherita e l'associazione che mi segue e che hanno sempre fatto grandi cose sia per trovarci degli spazi in cui giocare sia come anche supporto morale durante i tornei e vabbè ringraziamento a mamma e papà e niente. Grazie, grazie mille.